Io ho avuto una passione fin da piccolo per questo lavoro nell'ambito dell'orsofrutta e quindi ho sempre avuto la tendenza ad avere un punto vendita a modo per soddisfare il più possibile la gente che comunque mi segue. Mi trovo a Montecchio di Vallefoglia dove tramite mia sorella che è qui da tantissimo tempo mi sono un po' ambientato qui, ho conosciuto tante persone della zona e tecnicamente mi sono lanciato una sfida con me stesso di realizzare questo punto vendita. Questo negozio non si chiama Vito, questo negozio si chiama Made in Italy, ortofrutticola Made in Italy, quindi non è un Made in Italy giusto per dire Made in Italy, se tu vai a vedere tutto quello che c'è qui dentro è di origine italiana, ma a maggior ragione come potrei anche vedere in delle locandine ho cercato di attaccare le marche alla Sicilia. Quindi i prodotti che troverai qui dentro per il 90% dei prodotti che sono qui dentro sono locali marchigiani e siciliani, più marchigiani sono i salumi, i formaggi, il latte, le uova, la farina, la pasta che è Made in Marche, abbiamo un estratto di frutta 100% italiano del posto, del territorio, abbiamo anche qualche prodotto pugliese, qualche biscotto pugliese, abbiamo qualche sottolio pugliese, ma nell'ortofrutta ho puntato molto sulla Sicilia perché la Sicilia è una delle zone dell'Italia comunque della nostra nazione che si addice un po' di più per gli ortaggi, per un po' di frutta, grazie alle sue temperature, al suo clima. La nuova attività per noi è un fatto sempre estremamente importante, vengono a fare la spesa in questo territorio a Montecchio anche da tutti i comuni confinanti, quindi questo a noi ci fa piacere, quindi facciamo anche un in bocca al lupo al coraggio e la passione di aprire un'attività nuova, magari con prodotti locali, con prodotti siciliani, con prodotti delle nostre terre e perché poi la gente apprezza, ma è anche attenta, soprattutto le donne, a quel che comprano, che sia un prodotto di qualità. La qualità fa la differenza e quindi l'in bocca al lupo è che questa attività possa crescere, possa avere un futuro e possa dare soddisfazione anche ai cittadini e alla comunità di questo territorio.